A Vibo Valencia per vincere e chiudere definitivamente il discorso riguardante il secondo posto. Il Siracusa è carico in vista del match in programma domenica 21 aprile alle 15 allo stadio Luigi Razza contro la terza in classifica. Uno scontro diretto assolutamente da non perdere per gli Aretusei che potrebbero anche farsi bastare il pareggio per mantenere 6 punti di distacco. A due partite dalla fine dalla formazione calabrese assicurandosi così il secondo posto in classifica utilissimo in chiave playoff. Non sarà comunque una gara agevole contro una Vibonese che ha bisogno soltanto di vincere per tenere accesa la speranza di superare gli Aretusei. Ci si attende pertanto una gara equilibrata e combattuta. Il Siracusa l'ha preparata bene in settimana cercando di curare anche i dettagli. Gli azzurri saranno sostenuti da 120 tifosi, tanta infatti la capienza dello stadio di Vibo Valencia per quanto riguarda il settore ospiti. I sostenitori Aretusei possono comprare il biglietto al bar Sorriso di Viale Santa Panagia da oggi alle 9 fino a domani sabato 20 aprile alle 19. Grazie a tutti.